Musica Ben tornati qua gamer su Preda Channel e su Child of Light Bene, riniziamo dove ci siamo lasciati, in questa grotta Questa grotta, grotta Non mi ricordo che parte devo andare Allora, andiamo un attimo Di qua cosa c'è? Nada Vabbè Nada, infinito in questa grotta E dobbiamo dirigerci non so dove Ah, eh, sì, posso Non si può 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 Allora Tu devi fare un'antialterazione alla ragazza Tu devi fare una mega Musica Non abbiamo i PM Prendente Prendente da che parte? Prima di niente Non rallentiamo L'antialterazione molto importante per la nostra ragazza E se non è in prima linea di solito Tende Tendono a morire Malamente Aia C'era una tattica in questo gioco ragazzi Mi sono completamente dimenticato Allora Tu curasi Puoi curare Lei Sì Aia Attenzione Ragazzia deve morire Azione Pendente Ragnetto Ragnetto Ah Attenzione Ragnetto non Allora Colpo Sul lupo Prima che Perfetto Perfetto Aspettiamo Minchiamo lui Azione Pendente Agia 111 Attenzione Male Male Allucinante Intanto vai a recuperare in giro cose Difficile Usare due cose insieme Ok Allora Il ragnetto Se ne andò Se ne andò Rimase Il lupacchiotto In fiamme E Il porco Ok Vediamo un attimo Cosa possiamo fare Colpo Colpo Curo No Curai No No Pina vita L'altro A 103 Vediamo una magia Abbiamo una magia Attacco No No Non possiamo sattentare Attaccare Attaccare Il più pericoloso Ovvero Il lupo Colpo Critico Attenzione E direi di approfittarne Subito Con un bel pendente Ma non crolla Non demorre Colpo 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 Direi Il lupo Che è in crunch Quindi Usiamo Azzerarlo Perfetto Perrotto Aia L'alentamento Ma non va più L'anticoncezionale No Non ce l'ha più L'anticoncezionale Il pacchiotto Il pacchiotto Perfetto Si è letto morire Non è rotto Attenzione Non muore Attenzione Non demorde Ah Quando è che finisce Quando è che finisce Olla madonna Il lupo Se ne andò Quindi se possiamo Concentrarsi Sul pacchiotto Il lupo Ha accelerato Di brutto Ma noi L'abbiamo Interrotto La ragazza Forsemente Se ci Sto è stanco Teoria Dovremmo riuscire A farci Questa volta Interrotto Addirittura Interrotto L'ultima Si è ripresa Infatti In potenzione Agilità Allucinante E lo schiva Lo schiva Ma io Sì non lo schiva Non riesco a fermarli Iniziamo a esaurire La vita Iniziamo a esaurire La vita Iniziamo a esaurire Sto è stanco Al genito Dai che cade Dai che cade Dai che cade E' caduto Nuovi livelli Attenzione Nero 13 Che appomenta Che appomenta La forza Tutto aumenta E' un punto abilità Da poter spendere Nettere fatato Attenzione Ok Occio qua Che Si rischia la vita In una maniera Allucinante Ecco appunto Immagina che Mi faccia male Tutto Mi faccia male Tutto per cosa Per questa Oh 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 Calmi Andiamo a calmi Ok Ma Eccolo qua Quello che ci interessa E' questo Aprile vita Questo Che c'è davanti Attenzione Momento video Boss Momento boss Addirittura Attenzione Momento boss Triplice boss Caspi Caspiterina Musica epica Attenzione Non è pronto Questo Epicissimo Allora Direi Visto che siamo qua Una deteriorazione E' tu Una Super mega colpazione No Attaccata Attacca Attacca L'acqua Attacca L'acqua Attacca L'acqua Perdente Sull'acqua Vediamo Mi sembra Fugile Mi si è rotto Attenzione Che Ci attaccano Tutti Prepotentemente Attenzione Attaccano Tutti In maniera Cattiva Qua la Vedo Ecco L'acqua Che è messa 21 Allora Direi di tenerne Uno Solo Per Gli attacchi Uno Solo Per Curare 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 Ok Allora Curativo Su Di lui Intanto Grazie Al fulmine Allora 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 Tu Direi di Curare Ancora Un po' Di gente Ecco Che poi Arrivato Mi deve Rompere Il cojones Ok Ok Azione Pendente Su di Lui Il Posso Che Nero Lui Ok Ho 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 Il C'è C'è Il C'è Le cose Perfetto Così Ho 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 Dato Questo Ok Allora Ehm 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 No 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 Non Attacchi è un tonico curativo al 50% e tu attacchi l'acqua quello che saprà attaccare così lo facciamo passare la voglia di attaccare però il prossimo è il verde io direi il verde tutti hanno abbastanza vita se riusciamo a interrompere lui si ce la facciamo ok interrompo il prossimo è il rosso cazzo ma tutti quanti insieme cosa è successo? la madonna azione il verde forse per fargli un super corpo di uso il ragio di uso è il primo lo sai chi è? nooo interrotta questi stanno facendo del male lei lei ancora forse l'antico antico antico non si è perché non usano magia questi gentili uomini gentili serpenti cosa fare? cosa fare? un'azione direi insieme verso lui si chiamano fermarti cosa fanno la pezzana? perfetto tocca alla signorina che si è un bel tenenismo fermiamo qualcuno fermiamo qualcuno fermiamo assolutamente qualcuno fermiamo assolutamente qualcuno ok ok possiamo volevo attaccare l'altro ma in mancanza di ciò direi di direi di paralisi attenzione nuova mossa se li portano pure indietro tu dimmi tu giullare anti alterazione anti alterazione no allora allora io direi di curare il tizio è lui lui è la tizia tizio è lui lui è la tizia sono le due sono le due direi di usare un'anti alterazione a questo punto a tutte e due ok senza farci interrompere possibilmente faccio interrompere grazie eh tu direi visto che sono pronti questi qua direi di difesa punto azione una bella difesa non c'è nessuno se ne fa male solo a lui lei fa niente non si scalpisce ok senza rallentarlo un bel colpaccio su di lui e tu un uito dopo fai un bel seguimento spinto un po' subito come bloccato perfetto questa vulnerabilità al fuoco esattamente cosa serve forse un po' stanco il bicione le volte comunque non ha battuto sì lo colpo sì tanto lo vedete lo siamo messi bene ok al prossimo giro ragazzi ci si cura come se non ci fosse un domenico è successo si è curato da solo però ragazzi però mi piace mi piace mi piace un indipendente un bel felino intorso dovrebbe essere ignorabile non ha una quanta vita c'ha speriamo a fermare lui è rotto lui però ovviamente non era possibile interrompere lui pendente subito di lui lo facciamo aia me l'ha fermata me l'ha poi intanto come moriamo attenzione gli rimane 5 di vita subito subito super mega prossimo curativa perfetto azione pendente con i desideri dove sono vabbè attacchiamo sì lui speriamo di ammazzarlo no si è ricaricato attenzione sono ricaricati si è ricaricato è un mega dungeon questo mega dungeon è la madonna poi 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 basta cacchio me l'hanno me l'ha fermato oh 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 che magica è no lei per forza deve attaccare sa che muore quando è che muore dio santo ah tocca a te però risalverò la pozione su di te quello che torna in vita attenzione ci aggrazivo che mai non è vero non è vero più aggressivo che mai ma invece no tu invece cosa puoi fare di utile in una società cosa ah intanto ma andiamo ragazzini in giro a prendere tutte le cose così possiamo rallentare di nuovo la gente tu vista la situazione attuale dei pf dovrai che puoi anche attaccare sta sanguisuga maledetta sta qua no uno è andato ok abbiamo nemmeno che pensare maledizione maledizione no 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 ci abbiamo fatto fermarlo vabbè vabbè ma saremo prossima vita a a curare quello che è stato fatto lo distruggi lo distruggi lo malmena malmeniamo anche l'altro è già in due è già più gestibili la cosa paralisi ottima ottima idea ottima ottima idea blocchiamo lui al volo al volo e poi attacchiamo l'altro no troppo tardi maledizione attenzione 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 qua qualcuno si sta facendo parecchio male senza fermarlo attacchiamo e poi lui una bella posioncina curativa su di là di là che non gli guasta no no ma guarda si ce la faccia fa bloccare la funzione blocchiamo lui è veramente veloce paralisi a posto siamo ma tanto a noi non ci interessa poi un bel colpicino eh no sto blocando sto blocando ma rimane blocata per tanto quel che mi ricordi ok questo la switch ha fatto un po' male fermi tutti tu tu colpo di lui ti arriva no ti arriva mannaggia mannaggia lui ti ha pure interrotto ma dai ha schivato con che gesto ha schivato il tutto scusi ok senza è troppo veloce sto qua ah no ce la fa ce la fa questo è rotto no questo non ci ha faceva bloccare non ci sprechiamo che c'è allora attenzione che qua le cose iniziano a farsi pesanti e barcollati un'azione difendente su di lui no su di lui sembra deve uscire a ahia infiletonici quindi dobbiamo usarci una magia pura 4 ce la possiamo permettere centralizza insicura bravo ragazzo possiamo andare a bloccare non è anche troppo si è quello mi deve bloccarlo subito così lo fermiamo al volo un è morto l'altro sta appena a morire stanno bloccati attenzione in un momento diverso quindi dobbiamo riuscire a alimentarlo con facilità adesso dobbiamo continuare a a bloccarlo ok dobbiamo continuare a bloccarlo saccagnano di botte ed eccolo che perisce sotto i miei colpi le prende le busche le busche e basta le busche e basta fammi una colta veloce uno di fuoco mi mette quasi in difficoltà ma noi siamo tenaci e tam dobbiamo annientarlo con il prossimo colpo in teoria no invece no è preso un mega ultra mega colpo il farone insomma andiamo lui ecco lui vediamo qua prendere queste cose ok devo usare un mega colpo ultra super mega discutivo sperando che lui non uscita prima ovviamente e invece si vabbè niente non vediamo niente ci piace fare di livello pure nuovo livello attenzione ok un sacco di cose interessantissime e la madonna il nanetto si rivela più aggressivo del previsto quindi ok quindi ok le acque sono state curate si può di nuovo bere questa fontanella questo nostro padre che boh gli manchiamo quanto pare non è un sogno attenzione un'altra allucinazione caricamento e l'incantesimo fu sciolto e i corvi tornarono nani nani barbuti sottolineerei parecchi barbuti felato della damma attenzione attenzione richiesta delle mura si fa sprechi così in fretta però mannaggia e allora cos'è comunque abbiamo completato il boss ragazzi e io direi che per questo appuntamento attenzione qui si guadagnano anche cose su youplay direi che per questo appuntamento è tutto ragazzi vi invito a mettere un bellissimo like al video se ovviamente il video vi è piaciuto un bellissimo like anche alla pagina facebook che vi lascio in descrizione e un saluto a tutti i gamers